Vaccini subito la terza dose senza distinzione ed età e l'ordine in partito dal governatore De Luca e manager dell'asle della campagna. Non sarà necessaria la prenotazione, unico requisito aver superato i sei mesi dalla seconda dose. Intanto sono 657 casi e due decessi. Napoli occhia il bilancio ma si rischia il default. In Consiglio Comunale passa il bilancio consolidato, certificato un debito di almeno 5 miliardi. Il sindaco Manfredi rilancia l'appello a Draghi. Numeri chiari, serve un intervento statale, altrimenti è la fine. De Luca ci sono i fondi per cambiare Napoli. Un miliardo di euro per la trasformazione urbanistica della città. Il governatore rilancia la sfida e annuncia i progetti in cantiere. In programma anche la nuova sede della regione Campania nella zona di Piazza Garibaldi. Solo frauto in fiamme non mi farò intimorire. Nel mirino la vettura del presidente del Consiglio Comunale, l'avvocato Filodemo, che racconta i momenti di paura vissuti nella notte con la famiglia. Non si esclude il dolo, ma andrò avanti senza timore, dice il legale Ottocianne. Salerno morto sul lavoro, c'è un primo indagato, omicidio colposo. L'accusa nei confronti del proprietario dell'abitazione di Bellizzi, dove è morto il 57enne Manovale Giovanni Colangelo. Un atto dovuto, precisano le forze dell'ordine. I sindacati chiedono l'intervento della regione. Sannio Sviluppo Green riparte la piccola impresa. Le aziende sono pronte ad aprire le porte agli studenti. Così Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria, Confindustria Benevento. Venerdì in città, il PMI Day sulla sostenibilità ambientale. Buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, cala l'indice di contagio. Oggi 675 casi positivi su 33.914 test esaminati. Il governatore De Luca intanto conferma la terza dose per tutti. Dopo i sei mesi, priorità assoluta per il personale sanitario, quello delle RSA e del personale scolastico. Sono 675 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in campagna. Su 33.914 test esaminati. Cala il tasso di contagio, che ieri era pari al 4,49% ed oggi è all'1,99%. Due decessi registrati nelle ultime 48 ore. Negli ospedali resta invariata la situazione nelle terapie intensive, con 21 posti letto occupati, mentre aumentano i recovery in degenza con 302 posti letto occupati. E De Luca, nel corso della riunione convocata con i dirigenti delle ASLE, delle aziende ospedaliere della Campania, ha confermato che le vaccinazioni con terza dose, trascorsi sei mesi dall'ultima somministrazione, sono aperte a tutti i cittadini della Campania, senza limiti di fasce di età o di categorie. Per le terze dosi, spiega la nota del governatore, ci si può rivolgere direttamente ai centri vaccinali, senza alcuna prenotazione. Resta la priorità assoluta delle dosi booster per il personale sanitario, quello dell'RSA e del personale scolastico. Ma ogni cittadino che voglia può essere immediatamente vaccinato. Intanto preoccupa il dato dei non vaccinati. La dottoressa Pina Tommasiello, referente dell'unità di crisi della Regione Campania, annuncia la lotta ai Novax. Non è possibile utilizzare il tampone gratuito, perché io li faccio in modo gratuito, come green pass o come ammortizzatore contro il vaccino. Il Servizio Sanitario Nazionale offre il vaccino. Napoli in Consiglio passa il bilancio consolidato, certificato un debito di 5 miliardi. Il sindaco Manfredi rilancia l'appello a Draghi. Numeri chiari? Serve un intervento statale. Con 30 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2020. Hanno votato a favore l'intera maggioranza e la consigliera Alessandra Clemente. Si sono astenuti Bassolino e Lange. Hanno espresso voto contrario tutti gli altri assenti al voto, i consiglieri Sannino e Brescia. Certificati quasi 5 miliardi di debito e 250 milioni di deficit annuale. L'assessore alle finanze Pierpaolo Baretta ha illustrato il documento contabile redatto dall'amministrazione di De Magistris. L'approvazione era un atto dovuto, dice Baretta. Intanto abbiamo regolarizzato una situazione che era rimasta in sospeso. Il bilancio consolidato è molto importante perché dà l'idea dell'insieme delle attività del comune, soprattutto delle partecipate. Ci mette nelle condizioni di adempiere ai primi compiti, come ad esempio la regolarizzazione di una parte del personale. Per il sindaco Manfredi i numeri parlano chiaro, serve l'intervento statale, altrimenti la città non potrà mai ripartire. Noi dobbiamo fare un patto per i napoletani. La città ha bisogno di un intervento perché altrimenti noi non siamo in grado di poterlo amministrare e di poter dare delle risposte a Napoli. Io sono molto fiducioso che tutti i parlamentari di qualsiasi parte politica sosterranno questo intervento che è indispensabile. Noi oggi dobbiamo dare una svolta, noi dobbiamo amministrare la città, dobbiamo farla ripartire dopo anni molto complicati e per far questo abbiamo bisogno di un'azione complessa e integrata che però deve partire da un intervento statale. Non c'è altra soluzione. I numeri sono chiarissimi. Un miliardo di euro per la trasformazione urbanistica di Napoli. Vincenzo De Luca rilancia la sfida per la città e annuncia progetti in cantiere. In programma anche la nuova sede della Regione Campania nella zona di Piazza Garibaldi. E siccome non perdo il vizio, io coglierò un'altra occasione per prendermi qualche altro avviso di garanzia perché vorrei realizzare un'opera di grande architettura contemporanea. Con questa battuta, Vincenzo De Luca, davanti ad un'associazione di imprenditori che si è appena costituita a Napoli, ha ribadito la volontà di realizzare la nuova sede della Regione Campania. Un piano che va nella direzione, avviata da Palazzo Santa Lucia, di dare una spinta alla trasformazione urbanistica di Napoli grazie ad un investimento complessivo di un miliardo di euro. Per la nuova sede parliamo di fondi della Regione e di fondi dell'FSC, quindi siamo sganciati, ma per quello che mi riguarda i tempi sono tre anni e mezzo, non di più. Più in generale, l'impegno del Governatore è di investire risorse ingenti per cambiare il volto di Napoli. Nell'ambito del disegno di trasformazione urbanistica della parte orientale della città di Napoli, la Regione ha proposto di fare il lungomare orientale, un parco pubblico davanti all'Hotel Ramada, a Via Galeo Ferraris, eccetera. In questo contesto vi sono sia preesistenze industriali che vanno riqualificate, sia investimenti industriali che possono essere realizzati con capitali privati. Mettendo insieme questo flusso congiunto di risorse, noi possiamo davvero determinare una svolta di sviluppo nella città di Napoli. Questa è l'ambizione che abbiamo oggi. Campania prima tra le regioni, Napoli prima tra le province. Il poco lusinghiero primato dell'illegalità ambientale nel 2020, secondo Ecomafie 2021, il nuovo rapporto di lega ambiente su storie e numeri della criminalità ambientale in Italia. Con 5.457 reati accertati nel 2020, al ritmo di 15 reati al giorno, la Campania è la maglia nera e si conferma la Regione dell'Ecomafie a livello nazionale. si registra solo una leggerissima flessione degli illeciti, 92 in meno rispetto al 2019, ma con un incremento delle persone denunciate, ben 654 pari al 15,5% in più. Degli arresti, più che raddoppiati, 50 contro i 24 del 2019, dei sequestri, 131 in più nel corso del 2020. Tra le province, dati negativi per Napoli, 1.615 reati, ma anche per Salerno, 964 e Avellino, 655 reati. Rilevante anche il numero dei comuni commissariati per Ecomafia, un quadro, dicono, allegambiente nel complesso preoccupante. E si indaga sull'incendio dell'auto di proprietà dell'Avvocato Filodemo, presidente del Consiglio Comunale di Solofra. Paura e danni alla vettura e al condominio dove abita il professionista. Ho avuto paura per la mia famiglia, un episodio che inquieta, ma vado dritto per la mia strada. Sentiamo. Un episodio inquietante che scuote nuovamente la tranquillità della cittadina solofrana. Questa notte, intorno alla mezzanotte, un'auto, una Jaguar, è stata data alle fiamme. La vettura di grossa cilindrata era di proprietà di Francesco Filodemo, avvocato e presidente del Consiglio Comunale di Solofra. Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura, ma hanno danneggiato anche la facciata del palazzo di Viale Principio Amedeo, dove abita il professionista. L'episodio ha scosso l'avvocato Filodemo. Se dovesse essere doloso, escludo categoricamente che possa rientrare nell'attività politica, anche perché sono il presidente del Consiglio Comunale di una città tranquilla, sia dal punto di vista delinquenziale, ma anche dal punto di vista politico. E poi il presidente del Consiglio Comunale ha un ruolo terzo ed imparziale rispetto all'attività amministrativa, ma lo escludo categoricamente. Se dovesse essere doloso, credo che vada ricercato nell'ambito dell'attività professionale. È un gesto insano, totalmente ingiustificabile, che poteva mettere a ripentaglio la mia, quella della mia famiglia e delle altre persone. Ancora ad accertare le cause dell'incendio, ma ci sono pochi dubbi. Diverse le piste seguite dai carabinieri, da quella privata a quella professionale. Omicidio colposo è questa l'accusa nei confronti del proprietario dell'abitazione di Bellizzi, dove è morto il 57enne manovale Giovanni Colangelo. Un atto dovuto, precisano le forze dell'ordine, proseguono le indagini sull'ennesimo incidente sul lavoro, mentre i sindacati chiedono l'intervento della regione. È indagato per omicidio colposo il proprietario dell'abitazione di Bellizzi, dove nella mattinata di lunedì è morto il manovale Giovanni Colangelo, 57enne originario di Montecorvino Rovella, l'uomo forse colpito da un malore improvviso e precipitato da una tettoia, mentre stava controllando una canna fumaria. L'imputazione nei confronti del 33enne provvisoria, fanno sapere le forze dell'ordine, e si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia sul lavoratore, che si terrà all'ospedale Ruggi d'Aragona, e della necessità da parte degli inquirenti di effettuare altri accertamenti tecnici. Al lavoro i carabinieri di Battipaia, sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Salerno, durolatto d'accusa dei sindacati. Ancora una volta in provincia di Salerno, qui in Campania, dobbiamo assistere ad una morte per incidenti sull'opetano, ancora una volta una caduta dall'alto. È un fatto increscioso, non più tollerabile, e la Regione Campania da tempo stiamo sollecitando che possa in qualche modo mettere su una task force per affrontare in maniera sinergica quanto avviene sui luoghi di lavoro, ma ad oggi siamo ancora in un'attesa estenuante, diciamo, di una convocazione che ci possa permettere di iniziare ad affrontare organicamente la vicenda della sicurezza sui luoghi di lavoro. Pare che Colangelo, un installatore di caldaie in pensione, lavorasse a nero e al momento dell'incidente non indossasse il casco protettivo. C'è preoccupazione nel sannio per l'aumento dei contagi Covid che sta riguardando anche Benevento, tanto che il sindaco Mastella ha annunciato una stretta con controlli severi. I cittadini divisi benvengano le verifiche, ma prevalga il buonsenso civico delle persone. Nel sannio, se da un lato la campagna vaccinale in maniera costante fa segnare centinaia e centinaia di nuove somministrazioni al giorno, dall'altro però aumentano i contagi a Benevento e in numerosi centri della provincia. Contagi in prevalenza familiari e scolastici, come si evidenzia dai provvedimenti emanati dai dirigenti costretti a ricorrere alla DAD per le classi interessate da alumni o professori positivi. Mi dispiace constatare che il virus avanza spedito e comunicare che in conseguenza ho dato disposizione alla polizia locale di bloccare, per ora con richiami verbali, coloro che non indossano la mascherina. Questo è il monito del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo aver ricevuto informazioni circa all'inalzamento del numero dei casi Covid a Benevento. Insomma, il timore dei cittadini è ora che si possa incappare nuovamente in restrizioni e per questo ben miste sono le verifiche. Eh beh, bisogna vedere che tipo di controlli, però è giusto che ci siano. Stiamo sempre davanti al bar, però non vedo nessuno che controlla. Se uno si cerca di controllarsi da solo, spera pure in un controllo generale. La movida deve stare attento, mettesse più gente al corso. Bene i controlli, ma maggiormente il senso civico delle persone per impedire ulteriori inasprimenti. Bisogna affidarsi al senso civico delle persone e allentare un po' la corda, perché effettivamente non se ne può più. Ci vorrebbe un po' più di senso del dovere che manca, a prescindere dai controlli. Ad Avellino 16 casi registrati in città, mai così tanti negli ultimi mesi. Nessun cluster rassicurano dall'Asle. A Cervinara la tensione resta alta e il sindaco proroga le misure restrittive. Esplode il contagio ad Avellino. Oggi sono 16 casi, mai così tanti registrati nella città capoluogo negli ultimi mesi. Solo ieri sono stati 300 i tamponi analizzati. Nessuna preoccupazione rassicurano dall'Asle e non si può parlare neppure di cluster, perché i contagi sono in ordine sparso in diverse famiglie del capoluogo. Ariano Irpino resta col fiato sospeso per i tamponi di controllo, previsti per venerdì. Il vescovo Sergio Melillo, che resta in isolamento, ma fortunatamente in buone condizioni, nel giorno del suo compleanno ha ricevuto, oltre agli auguri, tanti attestati di affetto. Anche Cervinara non abbassa la guardia. Il sindaco, Caterina Lengua, ha deciso di prorogare le misure di contenimento, nonostante i dati rassicuranti registrati negli ultimi giorni. Questo veramente è di rivolgere, lo dico a cuore in mano, un ringraziamento non formale a tutta la comunità di Cervinara per aver accolto, direi, con rispetto e con senso di responsabilità questa decisione di prorogare ancora per una settimana le misure restrittive. Siamo stati messi prima di altri di fronte ad una dura realtà, che è quella di fare i conti con uno scudo vaccinale che ci preserva sicuramente dalle conseguenze più gravi, ma non dal contagio, e cui rispetto a questa realtà naturalmente, ripeto, dopo lo spandamento iniziale, veramente la comunità in Cervinara sta reagendo con grande responsabilità, con compostezze, mi lasci dire, anche con grande dignità. Sono stati celebrati a Montano Antilia i funerali di mamma e figlia, entrambe decedute, per complicanze del Covid. Intanto il virus avanza, chiuso il comune di Scafati ed il Tribunale di Vallo della Lucania. I familiari di Antonietta sono rimasti a lungo abbracciati al suo feretro, quasi a voler tenere vivo un legame spezzato tragicamente da un destino crudele e da un nemico invisibile. A portargli via Antonietta e la piccola Sharon, sono state le complicanze del Covid, che penetrando in un corpo non ancora vaccinato, ha avuto conseguenze letali per entrambe. Sharon, nata alla ventiquattresima settimana, è deceduta lo scorso 9 settembre. Antonietta, dopo tante sofferenze, si è spenta domenica nell'ospedale Federico II di Napoli. Due vite spezzate che sono state salutate per l'ultima volta nella chiesa della Santissima, annunziata di Montano Antilia. Una tragedia che ha fatto tornare tristemente attuale. Il dibattito sull'importanza di vaccinarsi anche in gravidanza, come confermato a 696 TV dal ginecologo Mario Polichetti. È importantissimo vaccinarsi e altrettanto importante vaccinarsi in gravidanza, perché si ha la doppia responsabilità nei confronti di se stessi e nei confronti del nascituro. Ci permettiamo di tranquillizzare a 360 gradi le gravide. È possibile ed è doveroso vaccinarsi, anche perché contrarre questa patologia, questa infezione in gravidanza con le sequele gravi a livello respiratorio poi diventa drammatico. Il Covid intanto continua ad avanzare nel Salernitano. A Scafati è stata disposta alla chiusura del municipio per il contagio di un dipendente. A Vallo della Lucania invece è stato chiuso il tribunale ed è stato disposto lo screening dei dipendenti. Le aziende sono pronte ad aprire le porte e gli studenti che parteciperanno sia in presenza sia in collegamento da remoto. Così Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria, Confindustria Benevento, in vista del PMI Day, in programma venerdì anche nel Sagno, è dedicato al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Torna a Benevento il PMI Day appuntamento venerdì con la dodicesima giornata nazionale delle piccole e medie imprese che si svolgerà in contemporanea in tutto il paese come di consueto coinvolgendo numerosi studenti sia in presenza presso l'Università Giustino Fortunato sia in collegamento da remoto. Una giornata che prendere il via con la relazione introduttiva del presidente di Confindustria Benevento resta vigorito e gli interventi di delegati ed esperti del settore con il presidente della Piccola Industria Claudio Monteforte. In quell'occasione le aziende aprono le scolaresche, gli studenti le porte e lo faremo in modo misto. Una parte degli studenti sarà in presenza e centinaia di altri studenti saranno collegati da remoto. Iniziativa quest'anno dedicata al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sentiamo di continuo termini come la salvaguardia del pianeta, la COP26, l'emergenza ambientale. Allora io dico una cosa, se questa è un'emergenza allora trattiamola come emergenza. Non è possibile che, soprattutto nella nostra provincia, nella provincia di Benevento, dove il comparto energetico ha creato un forte sviluppo, non è possibile che poi per ottenere un'autorizzazione e per far sì di adottare la reale sostenibilità e quindi produrre energie da fondi rinnovabili dobbiamo stare ad aspettare anni, quindi rinviare di continuo. Se è un'emergenza allora evitiamo tutte queste trafili burocratiche. Attenzione dunque alle nuove generazioni, al futuro dell'ambiente e del territorio, ma l'esponente degli industriali sanniti chiarisce. I giovani sono il presente. Il piccolo angelo nato prematuro è che domani sarà dimesso dal Moscati in un giorno speciale, la giornata nazionale della prematurità. L'ospedale si illuminerà di viola per la speciale occasione. Il piccolo angelo è venuto al mondo il 10 agosto scorso. Dopo un periodo di gestazione di appena 24 settimane alla nascita pesava 600 grammi e presentava una serie di complicanze legate alla prematurità. I genitori, due giovani di Ia Tripalda, lo porteranno a casa. Oggi angelo pesa 2,1 kg superando con successo tutte le difficoltà iniziali. Angelo rappresenta la forza della vita, sottolinea Sabino Moschella, responsabile dell'unità operativa di patologia neonatale e TIN dell'azienda Moscati. Orientare i cittadini grazie ad una corretta e veloce informazione per consentire loro un accesso più agevole alla giustizia. Questo è l'obiettivo dello sportello al cittadino presentato oggi presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento. Dal prossimo mese di dicembre presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento all'interno del Tribunale sarà attivo lo sportello per il cittadino. Un servizio di informazione gratuito per avvicinare i cittadini alla giustizia fornendo orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa con il presidente dell'Ordine Forense di Benevento Stefania Pavone è previsto dalla nostra legge professionale forense ed è un modo di avvicinare i cittadini alla giustizia nel senso di dar loro la possibilità di conoscere anche tutte le attività professionali possene essere dagli Avvocati e praticamente cercare anche di valorizzare in questo modo il ruolo e la funzione sociale che l'Avvocato ha nel dare sempre come sempre una risposta pronta ai bisogni della cittadinanza coordinatrice dello sportello sarà invece l'Avvocato Assunta Ventorino che entra nel dettaglio del nuovo strumento che arriva dopo una serie di importanti novità che hanno anche riguardato il sito dell'Ordine e i social di riferimento si tratta di un servizio assolutamente gratuito che avrà una modalità operativa nel senso che lo sportello sarà aperto nei locali del nostro Consiglio dell'Ordine tutti i mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 può accedere il cittadino che abbia bisogno di informazioni quanto più trasparenti possibili e il teatro declinato come impegno civile questo è il senso della rassegna neo presentata questa mattina a Salerno dalla Compagnia delle Ombre mettersi alle spalle la pandemia investendo nella cultura a Salerno torna a Neo la rassegna teatrale che si snoderà tra sette spettacoli alla sala Grimaldi dell'ex Colonia San Giuseppe organizzata dalla Compagnia Le Ombre prenderà il via il 20 novembre e tratterà di temi sociali delicati dalla violenza sulle donne alla pedofilia passando per la sofferenza degli emigrati italiani di inizio novecento con un omaggio anche a Shakespeare nell'anniversario della ricorrenza della morte del drammaturgo inglese Neo la rassegna teatrale che è giunta alla seconda edizione bruscamente interrotta dalla pandemia nella prima e abbiamo un bel parterre di spettacoli molto interessanti quest'anno cominciamo proprio noi con la nostra compagnia uno spettacolo contro la violenza sulle donne negli occhi di Eva il titolo ma ci sono tante tematiche come dire sociali se vogliamo che il teatro un pochino è anche politica è una rassegna che cerca di dare una novità un pizzico di novità alla città e ci proviamo e speriamo di riuscirci una rassegna teatrale di giovani infatti io partecipo a questo evento con grande entusiasmo perché si tratta maggiormente di giovani che attraverso questa rassegna teatrale vogliono creare turismo far conoscere la loro città la nostra città e creare anche economia e quindi questa rassegna che loro l'hanno definita come il neo il neo può essere un'alterazione della cute ma nello stesso tempo sul viso di una donna può essere anche un elemento di bellezza questa nostra ultima notizia il telegiornale termina qui grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi del canale 696 grazie a tutti 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 grazie a tutti